Io pretendo, Presidente, rispetto per la nostra richiesta e la produzione in originale di copia del documento sottoscritto dal senatore Kociancic e di sapere in aula dal senatore Kociancic se la firma in calcia a quel documento è la sua. Altrimenti siamo autorizzati a pensare che la Costituzione si stia basando e venga modificata basandosi su dei falsi. Il fatto politico non può basarsi su dei falsi. Se Kociancic e Dica la firma in calcia a questo documento è la mia.